Quando sono entrato io nello stabilimento, adesso parlo dell'interno dello stabilimento, sono entrato a lavorare in carpenteria, c'era tantissimi di quegli operai che lavoravano lì e c'era un fumo, una polvere micidiale, un rumore impressionante. Poi specialmente d'inverno ancora di più perché non c'era riscaldamento, c'erano delle chitarre a cherosene che mandavano fumo lì, non c'erano impianti di aspiratore, il fumo dei saldatori, tantissima gente che saldava lì dentro, il fumo rimaneva all'interno del reparto. Dertate c'era un caldo, anche un caldo micidiale, di inverno freddo e dertate caldo. Era dura lavorare lì, sì, era dura, però si lavorava bene perché non c'era problema, non c'è di lavoro come adesso, le fabbriche manca sempre il lavoro, cioè il lavoro c'era perché principalmente lo stabilimento di Savona era uno stabilimento di servizio al gruppo Itazide, cioè lavorava per gli altri stabilimenti, per Genova, per Taranto, per Bagnoli e facevamo in carpenteria più di tutto dei carri siderurgici dove ci mettevano sopra i pezzi finiti o ci mettevano sopra, facevamo i siluri dove ci mettevano la roba fusa dentro e che erano tutti poi rifasciati di mattone, dei carri ribaltatori, dei carri a tutti i modi, la carpenteria faceva quel lavoro lì. Poi c'era la fonderia, c'era anche la fonderia bronzo che nessuno ne parla mai. Non mi ricordo, ci sono stati parecchi anche feriti, morti anche. Oltre a Gigi Cuniberti, un altro che ricordo, che era caduto da una scala in magazzino, era picchiato dentro. Gigi Cuniberti è stato uno che l'abbiamo visto, io ero presente in fabbrica, siamo accorsi tutti, abbiamo visto là il morto lì così che non davano più segni di vita, cioè sono cose molto brutte queste qua, che sono ricordi che rimangono per tutta la vita, questi qua. Poi altri infortuni, infortuni gravi anche, ho perdito di una mano, poi era nel mio reparto, cioè andavano giù con un'imbragatura, si è chiusa l'imbragatura e l'ha portato via la mano, gli altri hanno portato via un dito, un altro è rimasto chiuso in mezzo al caro ponte, faceva il caro pontista, il caro pontista erano in alto, c'era la gabina in alto, è salito su mentre c'erano gli elettricisti che questo caro ponte non andava tanto bene. Allora lui cosa fa? Entra dalla salita che c'era sulla colonna che andava su e c'era passaggio per andare sul caro ponte, mentre va sul caro ponte, il caro ponte gli elettricisti lo muovono, è rimasto schiacciato qua in mezzo, questo qua non riusciva più a respirare, allora cerca un canello per tagliare, per fare, il canello non si riusciva a trovare, non arrivavano le gomme su per tagliare questa scaletta, la scaletta avete capito, in mezzo al passaggio, e insomma questo qua stavo morendo, stavo morendo, allora gli elettricisti hanno manovrato di sopra, sono andati indietro, però se sbagliavano la manovra, invece di andare in qua, andavano in un lato, qua rimaneva tagliato, poi l'hanno tirato giù, è stato ricoverato, insomma poi in qualche modo è riuscito, quelle sono le cose che ricordo io, quando ad esempio marcherina e cose, non ce n'era, cioè i guanti sì, i guanti li avevamo, i guanti protettivi, se li avevamo senza guanti, il capo, i nostri superiori, ci trovavano a dire, se mo' lavavamo senza occhiali, i protettivi, però le mascherine, le cose, uno non se le metteva, cioè si soffiava, si fava, poi c'era anche l'amianto in fabbrica, quello lì bisogna ricordarselo sempre, che c'erano, nel mio reparto c'erano più di 20 caroponti, tutti con le ganasce di amianto, perché i caroponti poi devono frenare, altrimenti vanno fino a un fondo, cioè sono quelle elettrocalamite, c'era povere, c'era fumo, c'era povere, purtroppo ancora prima di Natale, è morto uno in carpenteria, con proprio la malattia dell'amianto, che io non so bene dire come si chiama, il mezzotelioma, come purtroppo l'ultimo dell'anno, io ero all'obitorio, primo dell'anno, sono andato a funerale, questo mio amico, e faceva proprio salvatore, montatore in carpenteria, era uno stabilimento molto sindacalizzato, molto, cioè, molto, e allora, all'interno della fabbrica, eravamo tranquilli, perché lì c'era consiglio di fabbrica, c'era la gente, erano tutti, tutti, erano tutti di noi, cioè, voglio dire, non c'era problema, fuori dalla fabbrica, sì, fuori dalla fabbrica, c'era la paura, perché mettevano queste bombe, e gli operai degli Tarside, gli operai degli Tarside, hanno contribuito a fare queste ronde, via dicendo, io personalmente no, perché abitando a Valleggia, a forse andare a Savona, non lo so, forse più quelli di Savona, non so, però a Valleggia, io eravamo tranquilli, cioè tranquilli fino a un certo punto, però, cioè, le bombe le mettevano a Savona, nei portoni dei palazzi, non è che, fuori dalla fabbrica, era, la gente era preoccupata, all'interno della fabbrica, come dico, un po' meno, perché, insomma, all'interno della fabbrica, non avevamo paura, di compagni di lavoro, che potessero fare delle azioni, Brigate Rosso, che, cioè, ci conoscevamo tutti tra di noi, avevamo fiducia uno dell'altro, cioè, non c'era problema, non è forse come a Genova, all'Italzide di Genova, che purtroppo, c'erano le Brigate Rosse, la Brigate Rosso, all'Italzide di Savona, io lo posso escludere assolutamente, che ci fossero Brigate Rosse, perciò, noi, da quel punto lì, eravamo un po' più tranquilli, insomma. Poi c'era chi ci credeva, chi non ci credeva, sui privati, però i più tanti non ci credevano, è stata una cosa che abbiamo dovuto subire, altrimenti dicevano qua, ci siamo tutti, è finita lì, i privati sono quelli, poi il capitale sociale, sembra, l'hanno preso con 20, 20 milioni, questa fabbrica, non so, però l'Ilva ci ha dato tutte le nostre liquidazioni, queste liquidazioni, queste quasi sono beccate, 10, 10 miliardi, mi sembra, le nostre liquidazioni, le hanno passate ai privati, perché se uno andava a pensione, e con questi soldi qua, cosa hanno fatto questi qua? Hanno fatto un po' di lavoro, dentro la fabbrica, hanno tolto un po' di pavimento, l'hanno fatto un nuovo, hanno fatto un po' di scena, l'immagine, tutto bello, volevano rifasciare le colonne, d'acciaio inossidabile, di lamierino, la presenza, la cosa, quando non c'era più soldi, cosa hanno fatto? Soldi non ce n'è più, dovevano ricapitalizzare l'azienda, e hanno detto, soldi non ce ne mettiamo, perché i privati, uno era di qua, l'altro era di là, soldi non ce ne hanno messo, e poi l'azienda è fallita, è fallita l'azienda, ma c'era dentro, tante di quelle macchine, tanto di quel materiale, tante di quelle lamiere, tante di quelle cose, che anche il curatore fallimentare ha detto, ma come fa a fallire l'azienda così? Ma hai visto io fallire l'azienda così, con tutti, perché lì c'era tante di quelli caroponti, macchine, ma macchine all'avanguardia, controllo numerico, delle code, delle macchine grossissime, che si potevano fare, delle lavorazioni, che nessuno stabilimento poteva fare, è così, ed infatti è stato appetibile, perché tutti si sono precipitati, hanno portato via le macchine, hanno venduto tutto, e l'inquinatore ha potuto anche, darci la liquidazione, ha potuto, perché solo in generale, però, diciamo, questo stabilimento qua, hanno deciso di chiudere, l'hanno chiuso, è finita lì, non c'era niente da fare, c'erano altre prospettive, altre cose, c'era lì, da dare le aree al porto, da sopra, a farci quel grosso palazzo, che la gente si è arricchita lì, che è indubbiamente, che dico, noi, noi purtroppo è andata bene, nella disgrazia, è stato un dramma, è stato, hanno sofferto tanta gente, perché, come dicevano prima, i miei amici, che la gente, andare in casa integrazione, poi prendere i soldi, dopo tanto tempo, però nella disgrazia, ancora è andata bene, che nessuno è rimasto, proprio mezzo alla strada, cioè, andando a lavorare, facendo i lavori socialmente utili, andando a lavorare, poi in certi altri porti, qualche d'uno, qualche d'uno, erano anche operai bravi, che si sono trovati il lavoro, per conto suo, c'era tanta gente brava, lì dentro a lavorare, perché bisogna dire questo, allora, quando ha chiuso, mi sembra che siano stati, sui 350, perché l'OMES, non ricordo bene, quanto ne ha rilevato, però mi sembra, quel numero lì, che ha rilevato l'OMES, poi ne hanno dato altri, in prepensionamento, però sempre meno, poi è finito lì. Ando Cailani, ricordo io, era un partigiano, partigiano che era stato lì, al teccio del Terce, lì a Quigliano, era, hanno dato il nome, perché era un partigiano, insomma. Pensate che quando facevamo, le manifestazioni a Savona, degli anni, agli inizi degli anni 70, c'era davanti la macchina, si cantava, Bagliera Rossa, cioè, io non ero comunista, non lo sono mai stato, dico la verità, suo figlio di contadino, mio padre era, democristiano, dico la verità, mi dava un po' fartiglio, questo qua, andare dietro, che cantavano Bagliera Rossa, voglio dire, cosa serve Bagliera Rossa, siamo qua, andiamo a fare una manifestazione, tante le facevamo per il contratto, tante le facevamo, non so, anche per altre cose, però Bagliera Rossa, mi dava un po' fartiglia, sinceramente, anche se io adesso, forse sono più di sinistra, che da di altri. Un'altra cosa, che dicevo della sirena, della sirena, era sopra il capanone, davanti a una sirena grossa, così, che girava, così, e quella lì, fischiava, al 20, fischiava il 5, e poi fischiava anche, ad esempio, al 20 alle 6, 5 alle 6, alle 6, fischiava, e poi fischiava a mezzogiorno, e poi fischiava, la sera alle 10, e alle 2, diciamo, fischiava così, 20 alle 2, 5 alle 2, alle 2, però faceva un rumore, perché, faceva così, e si sentiva fino, non so, tutta Savona la sentiva, con l'affare lì, perché, cioè, noi anche, che andavamo a cambiarci, negli spogliatoi, perché andavamo a cambiarci, gli spogliatoi, erano vicini alla portineria, andavamo a cambiarci lì, e poi, ci serviva questa sirena, perché andavamo a timbrare in reparto, perché avevamo quegli orologi, trum, così, col cartellino, mettevamo tutto, poi bisognava ancora tirare la maniglia, e lì così, io ce l'ho ancora a casa, qualche cartellino di questi qua, e niente, timbrava lì, e un minuto dopo, ti toglievano un quarto d'ora, se timbravi, e 6.01, ti toglievano un quarto d'ora, allora era portata arrivare, dall'orologio, a timbrare, allora costo 5, è suonato il 5, bisognava di su, c'era andare giù, ci voleva un po' di due minuti, andare piano, e allora si correva, e arrivava lì, trum, che lo bello, e allora poi si iniziava il lavoro, perché ha le 6 di me, non so com'è, così, e entrare a lavorare a Little Seeder, era come, non so, come dire, guadagnare un terno all'otto, perché rispetto a tutti gli altri stabilimenti, questo qua era uno stabilimento, che era all'avanguardia, innanzitutto rispetto al contratto, dei metallo meccanici, questo qua privato, questo qua aveva un contratto, metallo meccanici pubblici, diciamo, la partecipazione statale, la paga era già più alta, e poi c'era già il premio di produzione, anche lì così all'Ital Seeder, oltre all'attre dicesimo che avevano tutti, voglio dire, e poi l'Ital Seeder non aveva problema, come dicevamo, di avere problemi di lavoro, lavoro in un stabilimento a servizio al gruppo, lavoro c'era sempre, perché la siderurgia in Italia, c'erano tanti stabilimenti siderurgici, allora l'Ital Seeder si andava a lavorare tranquilli, la gente, poi ci volevamo bene tra uno e l'altro, si lavorava in armonia, poi avevamo l'assicurazione della macchina, che l'assicurazione della macchina, uno la pagava tanto al mese, avevi l'attrattenuto, l'assicurazione macchina, e pagavi in 12 mesi, l'assicurazione della macchina, non te ne accorgevi, se te facevi una gita, facevi l'attrattenuto sulla busta paga, perché hai fatto la gita, e diciamo tante cose, poi all'Ital Seeder avevamo anche i premi di anzianità, ad esempio, adesso non ricordo bene, ci davano una moneta d'oro, un orologio d'oro, secondo 15 anni, 20 anni, 30 anni di lavoro, cioè tutto serviva, si è perso tutto, si è perso l'actoria di Savona, si è perso tutto, uno stabilimento in centro della città, dove lavoravano tante persone, non c'è più niente, pian pianino si perdono anche i ricordi, cioè noi abbiamo i capelli bianchi, però penso che i miei figli, io ho due figli, le generazioni che vedranno, cosa rimane? Una ciminiera, penso, uno può dire lì c'era uno stabilimento, però non penso che rimanga più niente, la sede era Savona, era il cuore della città, voglio dire.